La considerazione è semplice, è un partito che dopo le sconfitte elettorali e il ripartito ha avviato riflessioni sia sul suo modello organizzativo sia su questioni fondamentali per la vita dei siciliani, non solo la sanità, l'istruzione, l'università, le politiche industriali, la tutela dei lavoratori, il reddito minimo, la tutela del nostro sistema produttivo, pesca, agricoltura, artigianato, di tutto questo si è parlato, tutto questo è stato oggetto di un confronto serrato che ha visto con molti, non soltanto esponenti del Partito Democratico, ma anche molti ospiti, dunque un partito che vuole presentarsi come una forza di governo con idee chiare agli elettori. Questa è stata la festa dell'Unità di Agrigento che spero possa rappresentare un punto di svolta nella costruzione dell'agenda politica del Partito Democratico, un partito che ha ritrovato il gusto di discutere con i giovani, tantissimi giovani hanno animato i dibattiti, abbiamo visto un'organizzazione democratica dei giovani democratici molto forte sui contenuti, che si sta ulteriormente radicando nei territori, questa è una grande novità per noi ed è qualcosa che dobbiamo sempre più sostenere, perché da lì può arrivare quella linfa nuova che renderà più forte il Partito Democratico.